Signore e signori, l'uomo di Andrea Bersali, con noi in passerella Andrea Bersali. Grazie, grazie. Se mi permettete vorrei un grandissimo applauso per tutte le persone che da questa mattina alle 9 stanno lavorando all'interno del backstage rendendo possibile non soltanto il concorso che avete visto e che adesso andremo a concludere, ma anche tutte le altre sfilate che seguiranno. Sono persone che contro ogni orario, ogni esigenza fisiologica e non, si sono murati lì dentro, ripeto, dalle 9 di stamattina per rendere uno spettacolo, spero, apprezzato dal pubblico.